Renato Bartolomeo Massucco Le trenta giornate del Boia Capitolo ottavo, parte seconda Tra le letture e i canti del prete e di Gregorio e tra le luci colorate del tramonto attraverso i vetri legati si arrivò alla predica Il prete cattolico disse che non aveva niente da dire che aveva sempre aspettato un segno e che per lui il velo del tempio non si era squarciato che la morte a casa celeste, come in un altro luogo era sempre un tuffo senza respiro nell'ignoto che la fede era l'unione del possibile con l'impossibile del chiaro con il buio della ragione con il vuoto ed il pieno nello stesso tempo quel muro senza appiglio quel cercare un buco impossibile quel tentativo vano di dare un significato all'essere cominciando dal non essere come le madri che si vedono portare via dal treno i figli nel carro piombato questo è la nostra esistenza di là, sempre di là oltre perché? se ci fosse un pelo di certezza tutti sarebbero santi e poi disse ai fratelli di parlare ai fratelli che avrebbero presto sbattuto contro il muro essi forse avrebbero trovato un senso ma la finestra la finestra della morte dell'assurdo quella finestra non si voleva schiudere fede 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 tutti saranno salvati per la fede un atto eroico il rifiuto della disperazione per l'eterno che non è una beffa e che ci hanno piantato come spina nel cuore quell'eterno ci spreme poi il prete cattolico tacque e invitò i fedeli a parlare a dire qualcosa di illuminante ad aiutare se stessi e gli altri morituri del teatrino riuniti davanti alla commemorazione della morte di Cristo aiutiamoci fratelli disse perché il boia riprenderà il suo lavoro e se non lo riprenderà il boia lo riprenderà la natura disse Eleonora la pietà non è di questa terra qualche momento d'infinito lo abbiamo tutti vissuto sembrava che sarebbe dovuto durare sempre la corda al collo l'abbiamo avuta sempre che cos'è l'eternità fermati in quel momento che hai sperato e disperato e che impossibilmente è arrivato e sei così felice che non pensi più a quel momento ma al fatto che non può durare che l'ora scorre ecco l'eternità che vuoi che gliene importi del baratro a chi si sente pieno prete fratello mio tutto è fede non puoi sfuggire alla fede disse Beppe il professore con la nostra testa non arriveremo mai molto in là questa è l'unica speranza ma proprio perché è l'unica ha qualcosa di pauroso di drammatico ma per il resto è vuoto la pazzia dell'infedele la mancanza di fede è pazzia non è pazzo il cristianesimo ma chi lo rifiuta la scienza è dei pazzi la cultura è dei disperati la vita quotidiana degli alienati il senso alla base di tutto c'è il senso datemi un senso un senso ultimo parlaci Cristo parlaci di nuovo a noi poveri condannati di casa celeste a tutti gli altri condannati dal cancro dalla miseria dalla violenza dall'ignoranza parlaci in modo che sentiamo noi che ci uccidiamo l'un l'altro perché non siamo cattivi ma siamo disperati che ci azzanniamo di parole come belve affamate perché affamati siamo di qualcosa di eterno si passa l'esistenza senza saperlo aspettando un segno un miracolo che buchi la muraglia del nulla contro cui andiamo a sbattere dacci una feritoia non ci importa assolutamente nulla del pane quotidiano prima o poi non potremo più mangiarlo e vivremo nel terrore del mondo dove non si mangia pane dacci una feritoia di speranza e di mortalità e il tuo pane distribuiscelo agli altri luce vogliamo luce che sfondi il muro calice di sangue e vittima di pane qui a casa celeste dove si muore sostanzialmente bene tutti chiediamo di sentirci pieni infiniti con le persone le cose che ci riempiono o che ci avrebbero dovuto riempire liberaci dalla paura o signore e la paura non è il boia perché prima o poi un altro boia lo troveremmo dovunque per tutti i disperati per tutti gli agonizzanti ti prego Dio facci sentire qualcosa nei millenni di ombra dopo la luce non capita dacci un segno di certezza dopo Beppe il professore nessuno voleva più parlare e il prete continuò la sua cerimonia ed alzò il pane e il vino dicendo questo è il mio corpo e questo è il mio sangue e tutti erano in silenzio in ginocchio e forse aspettavano il segno che Beppe aveva chiesto con l'ultima rabbia fu proprio mentre il prete cattolico alzava il calice pieno di sangue che si sentì uno strano rumore qualcosa al di là di casa celeste e il prete riversò il sangue sulle anime dei fedeli sulla speranza della redenzione di una materia disperata era ormai buio e quel rumore era fatto di luce e quando i fedeli fuggirono rapidamente dalla cappella mentre Gregorio il giocatore spengeva le ultime candele e si toglieva l'abito scarlatto e la cotta bianca si riversarono nell'oscurità del grande cortile a sentire ululati e bagliori al di là della grande muraglia ed anche il boia fu avvertito della luce e del movimento e i muti lo aiutarono a vestirsi e lo caricarono su una barella e si diressero verso la porticina che dava fuori del grande cortile verso lo spazio presidiato dai muti tra le due muraglie e gli ospiti che allungarono l'occhio mentre si apriva la porticina per far passare la barella del boia intravvidero una fiaccolata una girandola di fiaccole un turbinare di muti impazziti che gutturavano speranza e agitavano falci di fuoco e di luce e la gente dentro casa celeste divenne nervosa e tutti erano nel buio del grande cortile a sentire e a sperare ad immaginare e a sfilare contro la grande muraglia la piana d'ombra si avvertiva lontano per la brezza che stavolta portava qualcosa di nuovo e le corde e il teatrino diventavano improvvisamente lontani le mura parevano fragili di carta pesta dopo la fiaccolata assurda dei muti la sala da pranzo restava spenta e nessun muto appariva a servire nel perfetto ingranaggio qualcosa si era rotto e questo lo doveva aver percepito immediatamente il boia se si era fatto portare in barella nello spazio pestato tra le due muralie soli senza i muti e senza il boia gli ospiti di casa celeste si sentivano sperduti nel cortile frizzante dove qualche rapido volo faceva frusciare il cielo passeggiavano i condannati e il prete che era corso anche lui dopo la funzione della disperazione e della fede forse stava per arrivare il carro di fuoco del pazzo cavallero o i primi segni dell'apocalisse del prete si stavano compiendo e accadde che il boia ritornasse dentro le grandi muralie e passasse tra la gente senza dir nulla e non si avviasse più alla casa di celestino i muti in barella lo portavano lungo il corridoio degli specchi fin nel teatrino poi nel cimitero e infine per l'ultima porta verso la sua casa nessuno disse nulla la fiaccolata dei muti durò molto tempo quando infine vennero a servire la cena agli affamati ospiti di casa celeste portavano nel viso stravolto i segni di una grande novità e dopo cena tutti rimasero nella sala da pranzo nell'attesa sfibrati e tremanti come canne di stagno dopo la tempesta e a tarda ora i mutinieri riportarono il boia in barella nel grande salone e invitarono gli ospiti il boia alzando appena il capo e stringendo con le mani i bordi della barella disse questo è un maledetto aprile il generale cortassa è stato rovesciato ed ucciso pende nella piazza grande davanti al palazzo del governo la giunta rivoluzionaria sta lavorando all'epurazione e alla ristrutturazione dello stato non abbiamo ricevuto istruzioni le esecuzioni sono sospese a tempo indeterminato siamo tutti prigionieri del nuovo governo voi siete prigionieri disse urlando Beppe il professore il boia non si scompose siamo tutti prigionieri ripete noi e voi ricordatevi che alla rivoluzione servono più i martiri che gli imbecilli e ad ogni giorno che passa da loro la possibilità di avere nuovi martiri ma io non servirò la rivoluzione le esecuzioni sono sospese nella capitale dello stato una grande moltitudine era corsa verso il palazzo del generale Cortassa aveva sfondato i cancelli e strappato gli occhi alle guardie che in vano mitragliavano la folla cittadini e soldati correvano per i corridoi mentre il generale saliva sempre più in alto verso gli ultimi piani lo avevano raggiunto nelle anguste soffitte braccato e danzante la folla l'aveva picchiato travolto nel sangue trascinato sulla terrazza da dove sempre aveva guardato le stelle nelle notti insonni e mentre supplicava con la bocca spaccata e la divisa brandelli lo avevano buttato giù sul secciato della grande piazza dove si era schiacciato con fili neri di sangue straziato l'ammasso dei suoi resti era stato gettato sul monumento della prosperità che egli aveva fatto erigere al centro della grande piazza ed ora stava là sulle spalle della donna enorme e popputa piccolo e scuro con la testa che pendeva sulla schiena e i piedi a ciondoloni sul petto di pietra tutte le stanze del palazzo del governo erano illuminate e mille punti neri ripassavano davanti alle finestre il comitato ristretto della giunta rivoluzionaria discusse nei giorni seguenti anche la sorte di casa celeste ci fu chi propose di ordinare l'immediata sospensione delle esecuzioni e lo smantellamento dell'istituzione si discusse animatamente e poi prevalse il parere del capo provvisorio della giunta disse dimentichiamo casa celeste fino alla fine del mese la scopriremo d'improvviso ad acque calme quando le esecuzioni saranno tutte compiute ora nessuno sentirebbe nulla fra una ventina di giorni il botto sarà grande e rinsalderà la volontà rivoluzionaria qualcuno obiettò che c'erano delle vite da salvare con urgenza il capo della giunta provvisoria ribatté quante vite è costata la rivoluzione nel suo primo giorno ventimila forse trentamila non le abbiamo salvate non le abbiamo potute salvare erano necessaria la causa venti vite in più cadranno per rinsaldare il sacrificio di ventimila arriveremo a casa celeste la sera del 30 aprile e daremo la notizia il primo maggio nessun giornale deve accennare a casa celeste tutte le comunicazioni con casa celeste devono essere interrotte la giunta rivoluzionaria approvò la decisione e casa celeste diventò ancora più lontana prigioniera della verde pianura con delle vite vendute e sbattute d'altronde aveva concluso il capo della giunta non faremmo un grande favore ai prigionieri salvando loro la vita ormai saranno stracci traumatizzati incapaci di adattarsi ad una vita normale che cos'è una vita normale chiese qualcuno sottovoce ma la domanda si perse nelle sale del governo e non arrivò agli anormali di casa celeste che vivevano aspettando i muti tacevano il boia si riprendeva lentamente e si faceva portare in barella al sole in mezzo al grande cortile gli ospiti passeggiavano aspettando nella notte e nel mattino un rumore dal mondo prigionieri dell'oblio isolati per la seconda volta cominciavano a recidere il filo di speranza nato dalla morte del generale cortassa forse non sarebbe mai più accaduto niente a casa celeste e la condanna morte era stata commutata in quella dell'argastolo dell'argastolo blu e la storia delle prime morti diventava lontana e leggendaria la grande muraglia salzava al cielo sempre più alta e il boia nero prendeva il sole al centro del cortile lontana